la mia confidenza è le stelle in questo momento penso proprio di fare benissimo vincerò questa partita alla grande in un modo superlativo superlativo sto sudando come una capra come una capra sto sudando però una capra vincente una capra che vince tutti i match una capra vittoriosa non mi ricordo sto skin che è season 2 si sono due una cosa cosa del genere si sono una scendiamo posti gialli dove c'è sempre più battaglia possibile io sono un battagliero tipo battaglioso ce la farò a vincere sto amici vincerò con una facilità disarmante ma piglio la mia arma sicura spero sia un cucino a pompa e dai cazzo molito brutto quando mira qualcuno e ti demolisco ne? brutto quando cioè mi ha beccato cioè io ho salvato la vita e ho ritornato per uccidermi sto merda umane riproviamo cioè quello è mi telegranate o era sempre lui che mi ha tirato la granata non penso forse si era lui cioè un compare zucca ucciso eh 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 brava signorina uccidi io il bastardo all'inferno deve bruciare alla partì poco fa non me la sentivo però questa si che me la sento me la sento alla grande no superman chiedeva se è superman clark gant che persona genuina andiamo oh oh sta schiena ce l'ho pure io mi sa che season era? season 3? no scelio di vò qua Questa volta spero di uccidere tutti quelli in questo post Adesso qua mi piace di più come posso Penso sia una pistola e una gas Dov'è? Sono massacrando vomicani Aspetta Giunto il momento di scappare Sono morto Uh non sono morto E che cazzo Tutti mi inseguono sono un calzone Eppure mi ha ucciso Proviamo l'ultima volta e poi basta Ucciso da un calzone Una vergogna Faccio un drop più tranquillo Forse è meglio che mi pio una casa E rompo le palle dalla casa Non è servito a niente Il colpo di martello Si è fregato da solo V-Bucks è scum Ma ricordate Saski Oh my god Soskini Figa da mi Soskini Qua Qua di solito mi va bene Quando scende sto posto di solito va bene Quindi penso di scendere qua Dovrebbe essere anche troppo appisi Dovrebbe essere anche troppo appisi Dovrebbe essere anche troppo appisi Di solito dove scende Dovrebbe essere scendere da questo lato qua Dovrebbe essere scendere da questo lato Dovrebbe essere scendere da questo lato Oh Dovrebbe essere scendere da questo lato E vince la sfida La prima sfida O non è Uno scarto Ma c'è uno che posso uccidere Dovrebbe essere scendere da questo lato O che è lato O che è lato Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. It's some kind of shield or something. It's some kind of shield or something. It's some kind of shield. Yeah. It's some kind of shield. It's some kind of shield. It's some kind of shield. Incredibile. Incredibile. It's some kind of shield. It's some kind of monster. It's some kind of shield. 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 Oh! E io prendo il potere di Deku, più forte della mazza sinceramente. Ah, i frutti di anno alla corsa? Non lo sapevo, l'ho scoperto ora. Incredibile, ma vero. Già, sono un po' di quindici persone. Oh oh! Oh, mi prenderei questa bottiglia qua quando sono con te. Ho sentito il rumore di poi qualcuno che aprià qualcosa. Uh, ce l'abbiamo andata. Quindi posso prendere questi tre e arrivo a sei. Stanno scannando come i cani, là. C'è spazio per me? Per... Per mischiarmi? Per mischiarmi? Grazie a tutti. 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 Oh, l'ho ucciso? No, è morto. Ah, è morto? No, l'ho ucciso, l'ho solo fatto volare. Abbiamo Tom. Tom super felice di aver ucciso e di essere nella sesta posizione. Un gameplay di quello incredibile. Oh, l'ho ucciso, l'ho ucciso. Tom è un'altra cosa che viene colpito. Tom contro l'ignoto che non si sa contro chi stia combattendo. Mistero, l'ho ucciso, l'ho ucciso, l'ho ucciso, l'ho ucciso. L'ho ucciso, l'ho ucciso, l'ho ucciso. L'ho ucciso, l'ho ucciso, l'ho ucciso, l'ho ucciso. Tom si reca a Mitch's Stitches. Tom, riceve due o tre colpi di assestamento. In lontananza si sente il rumore di una cassa che si apre. Ma Tom se ne sbatte di tutto questo. Tom continua interperrito. Perché Tom è Tom. Liam Kondogo viene ucciso da sua gente. E mancano solo quattro persone. Una di loro sa dov'è il nostro amico Tom. Che aspetta il momento apporturo per rubare la vittoria. Una cosa che non succederà, vai. Ecco, dai. Che aspetti? Eh, vai. Non meno una fight fatta, l'abbè. Ce l'avevi provato a prendere la sprovvista, questo. Ma Tom dice no. Dice perché. Voglio sopravvivere. Sono nella zone, chi mi tocca. E noi accettiamo il suo modo di combattere. Ammacco dei polsanti pensando che la tastiera è computer, ormai è la tastiera attaccata all'Xbox. Mira a una macchina. E noi accettiamo il nostro amico. Attenzione, tira le frecce bombastiche. Si mette dentro la macchina. Oh, è proprio un camper di quelli atomici, questo. Ma mi sa che sono tutti un po' così, perché non sta combattendo nessuno. Sono gli ultimi quattro, ma non so quanto. Ridicoli. Ridicoli tutti. Qualcuno si dovrà muovere. C'è uno dietro questa ringhiera, qua, uno dentro sto camper. E uno nella pompa di benzina. E uno è la. Non l'ha visto, oggi credo che non l'ha visto. E la fermo. Detro il palo. Quanto non vinci. Attenzione. Tom. Suo agente vince. Eh. Hai capito? Se c'è qualcuno qua dentro, eh. Alla. Dietro la ringhiera. Attenzione. Lo scontro si è appressa, perché quale è la ringhiera. Un codardo di prima qualità. C'è un codardo che pia pure danni. neanche se la zona non si smuove veloce. Proprio non ci vuole combattere. Se fosse un'opzione, lui preferirebbe che la zona uscidesse gli altri due. Dai, dai, dai. C'è lo smash. Fai se lo smash. Scusa. Non lo viva tutto. Si scarsa. Oh mio Dio. Non ci posso credere se chi ha vinto sto Tom. scarso come la cacchia. Però ha vinto. Più scarso al mondo. Incredibile. Incredibile davvero. Camperate, ragazzi. Camperate.